Attenzione, finale campionato di Judo alle Olimpiadi Osaka 2099 Alla nostra destra, Savi Marcello Sensei, alla nostra sinistra, Gioppo Guatelli Sensei, go! Ecco, vediamo, vediamo, Savi Sensei All'attacco, due punti, guadagna, avanti Ancora, attacco nel forso, questo qua, questo qua è l'attacco nel forso, lo abbatte Lo abbatte Mossa, mossa, ha otto un bastone, squalificato, squalificato